Bello a tutti ragazzi sono Gizios e io sono Ale e oggi siamo ancora su quei giochi strani che ho fatto l'ultima volta Sì, una cosa di questo Quelli molto intelligenti, pieni di significato Poi non so quanto, oddio se è pesante Ragazzi mi sa che bisogna aspettare un pochino, tipo 8-9 secoli Ok Faccio vedere questo laccio Che Gugu sto giocando in questo momento perché mi annoio E poi basta E poi tra Sì Cos'è Che cavolo E' figo Perché Ah ragazzi ci gioca i due Cosa dobbiamo fare Oddio Non lo so Siamo i due, siamo contro No che figo Cosa dobbiamo fare Cosa? Aspetta aspetta SD e Space E questo, invio Eh sì, tu hai invio Oddio Guarda Ah guarda Ho mangiato uno gnomo che mi ha fatto mangiare Non mi sto capendo niente Non devi mangiare gli gnomi, mangiamo questa qua La lingua di cioccolato Ah dei brevoli tutti insieme Super tasti Siamo già tra un macca Noi Oh hai sentito un po' di addominale Questo è scomparsi No Che prima non ce li avevo Ah più te, premuto e più si allunga la lingua Ah 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 ma puoi anche direzionarla la lingua Davvero Si guarda Cosa? 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 Perché? Cosa? Eh? Cosa? Perché? Fatemi alzare la musica Volano No Cosa? Cosa? Niiiioo Oh vai con Edgarn 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 Ok niente domande 3 3 2 Wast E tu quello E cosa dobbiamo fare? Aaaaaaah Oaaaaah Perchè non posso far più niente io? Sono un diode Ah lei è diventato dio Ah quando è morto è tutto brutto io Ma che bel gioco davvero Pieno di significato Io do un 10-10 a questo gioco Tu? 10 su 10 Sì sì proprio 10 su 10 Perfetto la ballerina pelosa Ok adesso ragazzi stiamo per giocare a un gioco di nuoto adulto Famosissimo Quindi play Si chiama pausa di davanti Pausa avanti Pausa di avanti Skillsoft Bello che bello È una televisione vecchia questa Credo È il Biltron 209 Anche di Flash Go Oh la madonna Wow Tra l'altro sembra Goku il vestito di Goku Quante figo Ma no non mi sembra Non mi sembra il replay E ti sembra Va bene Va e non muori Grazie Sento una sorta di vision Non Non di memoria Ma di un passato Ma di una vita passata Che figo che ha uso Cos'è il Super Meat Boy ieri? Cosa? Cos'è il Super Meat Boy? Oddio sono i cosi di Super Mario Sì Ho il campo Ho il campo Ho il campo E esplosionai la mucaria Ok Oddio 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 Oh my god Shift-O-C Cosa Quindi? E perché? Non serve Cosa? Che figata Ah beh sta in palma lui Va bene Oddio Guardate è fighissimo questo gioco Tempo e spazio in questo posto sono un'illusione Ma ragazzi mi è fighissimo Ciao Sì veramente ma c'è da farci un lesplay su questo Ho fatto una cazzata Ok C'è da farci un lesplay C'è È da fare Il tempo sembra male a me Vabbè ragazzi ci torneremo magari più avanti Ok siamo su Un ultimo gioco Che è l'ultimo gioco Che è l'ultimo gioco E E Per muoversi Oddio Oh che cosa? What the fuck? No che figo Siamo un bambino in pratica Ah ma devi distruggere Ok No 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 per di biberon No è biberon È che un biberon intendo la vita Ma che assassino non mi avrete mai Facciamo che io vado a sinistra Oh è volato fuori Facciamo che Ah beh la mamma lo spinge Tu guardi a destra e vado a sinistra Ok io vado a destra Oddio Oh no Perché? Non vale Tenuto addosso Ehi No Forse non è la cosa ideale Oddio Vabbè È un po' esagerato per un momento Non pensate Le lumache ti vengono addosso quindi ho paura Ma questa cosa sta cadendo davanti? E vabbè il lumache Dai lumache Passiamoci in mezzo Cattiva idea No Oddio Quante lumache ci sono in questo posto? Au Per evitare la lumache si fa tutto Vai 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 Oh L'ho fatto Ma lei Cosa? Cos'era? Ma non lo so Ecco Ecco Ma vaffa a muore No Ma guarda Ma è tutto pieno di alberi Ma è pieno di come si fa? Stratto di lumache Stratto di lumache Stratto di lumache Mi guarda No Lumache è stanzile Ma guarda ce ne sono Uccidete il mio bambino No Ma lui è indistruttibile Sì Va contro la lumache e non muore Ma con il cestino muore Fai Cosa fai? Oddio È pieno di alberi È pieno di alberi Ok Tratto di lumache Le gambe sexy del bambino No 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 Cosa ho fatto? No Stai Bene Questo si conclude Il nostro giro di videogame Quindi se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mettete un piacere Iscrivetevi e ci vediamo un prossimo video Bella ragazzi Qui Geo La terra è ok Stiamo tornando sulla terra Con il modulo di emergenza Passo Qui Aaron Grazie siete grandi Ah aspetta tu Geo Grazie a Dio State bene Fate presto Ah Prova prova Queluno Bel lavoro Geo Fate presto tornare Ehi Geo Sei davvero il mio eroe Quando torni ci faremo dei gran panini Ok Quello mi piace anche a me Grazie a tutti